Cerchi un ristorante o un locale per andare a cena? Devi festeggiare un evento particolare? Chiamo il call center di Radio Radio By Night Roma 800 039 036 per avere un trattamento privilegiato 800 039 036 Radio Radio By Night Roma Ma cos'è che c'è? Informazione, gossip, tendenze, locali, eventi, tutto quello che puoi fare di notte a Roma By Night Roma, tutte le notti, da mezzanotte alle 5 del mattino Niente, dormi, va By Night Roma, By Night Roma Ma cos'è che c'è? Musica come me night By Night Roma, By Night Roma Ma cos'è che c'è? Musica come me night This is the voice of your night Radio Radio By Night Roma Cento, Quattro e Cinque FM Let's begin, let's begin Prossimo ospite, chi è? Davanti a te Paolo Roberto Davanti a me ho Simone Osmari Portavoce, possiamo dire portavoce Di un gruppo che si chiama Metamorfosi in Viola Viene con noi, si esibirà questa sera con, innanzitutto con un pezzo cover Il pezzo è Impressioni di Settembre Cover della PFM PFM stava per? Premiata for Maria Marconi Ottimo Tu sei il cantante di questo gruppo? Sì, sono il cantante della band Ci esibiamo qui in zona, insomma Da quanti anni? In zona dove? Cinque, sei anni E ieri sera abbiamo suonato a Roma, per esempio Diciamo che suoniamo a festival romani E poi qualche serata qui intorno, insomma Nel nostro piccolo Allora adesso ti sentiamo Però ascoltatori voi continuate a cantare Anche chiamando Oppure chiamate cantando Decidete voi Io vorrei che ci rispondessero cantando, per esempio Sì, 8000-039036 Piccola precisazione prima dell'esibizione Che la base che sentirete non è una base midi Ma è una base fatta direttamente dal gruppo Dei Metamorfosi in Viola Quindi è come fosse un live Questo è il bello di By Night Roma Siamo pronti Quindi ditemi voi quando si parte Siamo qui È la piovra Zagarolo 800-039036 Per intervenire in diretta I fan Abbiamo scoperto che Radio Radio By Night Roma Come si chiamano gli sceriffi, quelli con le due pistole? Sceriffo È lo sceriffo Non c'è altro Ah, sono gli sceriffi Ci abbiamo lo sceriffo Cecchino dei Cellulari Ci chiamano Ci chiamano A due numeri Nello stesso momento addirittura Complimenti Complimenti Penso che qualcuno che disturba la radio È stato anche pesantemente denunciato a livello penale E tra poco Succede anche questo Eh, lo so Va bene Ma detto questo Luna e 38 Attenzione alle denunce Servono gli avvocati E bisogna pagarli anche abbastanza Talento della notte romana Adesso invece Simone Simone Dei metamorfosi in viola Radio Radio By Night Roma Radio By Night Roma Presenta il nuovo talento della notte romana Quante gocce di rugia da intorno a me Cerco il sole ma non c'è Dorme ancora la campagna Forse no Sveglia Mi guarda Non so Già l'odore di terra Odor di grano Sarà da giù Verso me E la vita Nel mio petto Batte piano Respiro la nebbia E penso a te Quanto verde Tutto è intorno Ancor più là Sembra quasi Un mare d'arpa E leggero Il mio pensiero Vola e va Ho quasi Paura Che si perda Grazie a tutti Un cavallo tende il collo verso il prato Resta fermo come me Faccio un passo, lui mi vede, è già fuggito Respiro la nebbia e penso a te No, cosa sono adesso? Non lo so Sono un uomo, un uomo in cerca di se stesso No, cosa sono adesso? Non lo so Sono solo, solo il suono del mio passo E intanto il sole tra la nebbia filtra già Il giorno come sempre sarà Sarà No, cosa sono adesso? No, cosa sono adesso? In diretta l'1.42 Simone metamorfosi in viola E sulle note finali Radio Fight Night Roma 104.5 Radio специale Ciao 2